Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai Suoi discepoli la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo. Risposero alcuni dicendo Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro, ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro, tu sei il Cristo e il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse, beato sei tu Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma al Padre mio che è nei cieli. E io a te dico, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. E le potenze degli inferi non prevaranno su di essa a te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire a alcuno che lì era il Cristo.